Buonasera a tutti, questa sera parleremo delle due lettere di San Paolo Apostolo ai Corinti. Incominciamo ad ascoltare un brano tratto dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Chloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice «Io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa e io di Cristo». «È forse diviso il Cristo? Paolo, è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo». Parola di Dio. Grazie, grazie. Grazie. Allora, prima di parlare delle lettere ai Corinti, noi abbiamo letto questa lettura, perché l'ascolteremo domenica prossima come seconda lettura della terza domenica ordinaria. Anzi, ascolteremo la lettera di San Paolo posto dai Corinti per varie domeniche, fino all'inizio della Quaresima, poi con la Quaresima si cambia un po' stile. Per cui, per esempio, il 29 gennaio, il 5 febbraio, il 12 febbraio, il 19 febbraio, seconda lettura è sempre prima lettera di San Paolo posto ai Corinti, anzi, proprio di seguito. Perché saprete anche questo, che durante il tempo ordinario, e siamo tempo ordinario, la seconda lettura un po' susseguirsi, ossia si va a cercare di leggere un po' di seguito, si prende una lettera di San Paolo e si legge un po' di seguito. A differenza invece dei tempi forti, di Avvento, di Quaresima e di Pasqua, in cui invece la seconda lettura si accorda un po' o con la prima lettura o col Vangelo. Invece nel tempo ordinario non c'è nessun accordo, poi a volte c'è, a volte non c'è, ma non è ricercato l'accordo tra il tema della seconda lettura e il tema del Vangelo o della prima lettura. Bene, allora, lettera ai Corinti. Beh, intanto Corinto era una grande città della Grecia del tempo, una grande città, una grande città sul mare, nell'istmo tra la Grecia e la penisola del Peloponneso, si chiama quella parte sotto, dove c'è adesso il canale di Corinto. Il canale di Corinto. Corinto era una grande città, ricca, popolosa, ellenica, anche di facili costumi, di molti facili costumi. D'altronde i greci non è che avessero chissà che morale, chissà che regole morali, non erano come gli ebrei che avevano mille precetti di più e di meno. Nella filosofia greca, nella mentalità greca, c'era un'ampia libertà. San Paolo visita Corinto nel secondo viaggio, perché il primo viaggio, lo sappiamo, si era fermato a visitare solo quella che è l'attuale Turchia, o Asia minore, e poi era tornato indietro in Palestina, a Gerusalemme. Invece nel secondo viaggio rivisita le varie cittadine dell'Asia minore e poi si spinge attraverso la parte sopra della Grecia fino ad Atene e poi a Corinto. Ad Atene aveva fatto un po' fiasco. Gli atti degli apostoli raccontano che ad Atene era andato all'Europago, aveva predicato il Dio che voi non conoscete, ve lo racconto e via via, e poi a un certo punto viene a parlare della morte e risurrezione di Cristo e questi non dicono beh, su questo ti ascolteremo un'altra volta. E quindi ad Atene non è riuscito, di fatti non c'è nei primi secoli da San Paolo una comunità di Atene, poi forse qualche cristiano prima o poi sarà arrivato, però non è riuscito a fondare una comunità. Invece spingendosi un po' più avanti, perché Corinto non è lontano da Atene, a Corinto, e c'è riuscito, anche perché si è fermato, si pensa, nel secondo viaggio un anno e mezzo, un anno e mezzo a Corinto. E quindi un anno e mezzo di predicazione, di lavoro, cominciando come solito con la sinagoga, poi lasciando stare la sinagoga, rivolgendosi ai pagani, a fondare una comunità soprattutto dei ceti medi e popolari dei pagani. non ha fatto grande breccia sui giudei che abitavano in Corinto, invece ha fatto breccia importante sulle persone di media e bassa e bassa censo della città di Corinto. E poi lui certo continua il viaggio e lascia la città di Corinto. Queste due lettere che noi abbiamo le ha scritte, pensano gli studiosi, durante il terzo viaggio. Durante il terzo viaggio. una prima lettera che scrive, lo scrive, l'abbiamo sentito, un po' per suggerimento di qualcuno, avendo saputo notizie, avendo saputo questo e quell'altro, e poi un'altra seconda lettera, sempre durante il terzo viaggio. Ma poi torniamo su vari dettagli. Viene da domandarsi, quante lettere ha scritto San Paolo ai cristiani di Corinto? Beh, voi direte due. C'è la prima lettera ai Corinti, la seconda lettera ai Corinti. Però non è così sicuro che siano solo due. Beh, primo perché c'è una lettera apocrifa di San Paolo Apostolo ai Corinti, però quella è tardiva, quindi è di pochissimo interesse. È sicuramente apocrifa, sicuramente tardiva, sicuramente non è autentica sua, e quindi... Però ci sono alcuni riferimenti interni delle lettere stesse che noi abbiamo in cui sembra che ci siano altre lettere. Perché, per esempio, se noi leggiamo prima Corinti 5,9, ve lo leggo, vi ho scritto nella lettera quale? Questa? Sembra di no. Vi ho scritto nella lettera quale? Una precedente. Vi ho scritto nella lettera di non mescolarvi con chi vive nell'immoralità. Non mi riferivo solo agli immorali di questo mondo o agli avari o ai ladri o agli idolatri. Altrimenti dovreste uscire dal mondo. Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è immorale o avaro o idolatro o maldicente o briacone o ladro. Con questi tali non dovete neanche mangiare insieme. Poi vediamo questo problema. Ma intanto il discorso sembra che da questo riferimento San Paolo avesse già scritto una lettera precedente. Dov'è questa lettera? Non lo sappiamo. Se ci fosse stata è data persa e quindi il suo contenuto non è di nostra conoscenza. Ma se noi andiamo a leggere un altro piccolo brano della seconda lettera Corinti Seconda Corinti 2.3.4 Tra la prima e la seconda lettera pensano sia passato poco tempo però nel frattempo sono successi dei fatti e San Paolo allora scrive e dice Ritenni pertanto opportuno di non venire di nuovo tra voi con tristezza perché se io rattristo voi chi mi rallegrerà se non colui che è stato da me rattristato? Ho scritto proprio queste cose ma dove le ha scritte? Nella prima? No, parla di tutt'altro però di tutt'altro in questa ma si riferisce a qualcosa che ha scritto prima e quindi dove le ha scritte queste altre robe? Ho scritto proprio queste cose per non dovere poi essere rattristato la via venuta da quelli che dovrebbero rendermi lieto sono persuaso infatti e vi ho scritto in un momento di grande afflizione col cuore angosciato tra molte lacrime non perché vi rattristiate ma perché conosciate l'amore che nutro particolarmente verso di voi quindi qui si presume che ci sia una lettera intermedia tra quella che noi conosciamo la prima e la seconda che noi conosciamo quindi gli studiosi immagino che di lettere ai Corinti San Paolo ne abbia scritte almeno 4 poi forse diventerà anche 6 o 7 ma ci arriveremo dopo su 6 o 7 almeno 4 quindi quella nostra sarebbe la seconda la prima lettera ai Corinti sarebbe effettivamente la seconda poi mancherebbe come manca la prima mancherebbe la terza e poi quella che è ritenuta la seconda lettera ai Corinti sarebbe invece la quarta la quarta poi tutto non è così sicurissimo perché queste sono osservazioni sono riferimenti e via dicendo le lettere ai Corinti sono beh di particolare importanza intanto perché sono abbastanza lunghe se la lettera più lunga è quella della lettera di San Paolo la più lunga è quella ai Romani però la prima lettera ai Corinti è assolutamente paragonabile come lunghezza la lettera ai Romani un po' meno ma insomma sono 15 capitoli forse sbaglio mi pare 15 capitoli la seconda lettera ai Corinti è un momentino più breve sono 13 capitoli però anche quella è sostanzialmente sostanzialmente lunga sostanzialmente lunga quindi sono lettere corpose molto più corpose rispetto ad altre che sono per esempio i tessalonicesi sono molto più brevi anche quelle pastorali sono brevi per non parlare della lettera unesimo che è una paginetta invece queste sono diciamo tra quelle più corpose assieme a Romani assieme a Galati assieme a Filippesi ecco queste sono le più lettere più corpose che San Paolo abbia scritto beh la prima lettera ai Corinti adesso entriamo un po' più nel dettaglio della prima San Paolo l'aveva scritta durante il terzo viaggio perché forse lui voleva tornarci però poi per qualche motivo non era ancora riuscito e ha avuto varie peripezie nei suoi viaggi d'altronde non erano viaggi come adesso che programmi aerei questo e quell'altro è tutto facile a volte aveva peripezie oppure doveva fermarsi oppure doveva far questo far quell'altro aveva però delle persone che in qualche modo lo aiutavano e magari se non andava lui andava andava qualcun altro a Corinto oppure c'era qualcuno che si doveva andare per qualche altro motivo e quindi San Paolo non facendo non riuscendo a andarsi di persona mandano scritto oppure era stato informato di qualcosa che era successo e quindi cerca di rispondere alle problematiche che sono emerse difatti questa prima lettera ai Corinti è sostanzialmente una lunga serie di risposte a problematiche emerse in questa comunità d'altronde immaginiamo questa comunità di Corinto erano cristiani da poco tempo erano cristiani che non avevano una base un fondamento perché magari i giudei i cristiani provenienti dal giudeismo avevano tutta una base dottrinale già ebraica quindi fatto di precetti fate però di tante altre cose dieci comandamenti che noi che noi assolutamente riconosciamo c'erano in questi in questi nei giudeo cristiani invece questo pagano i cristiani la loro morale e anche morale di comportamento derivante dalla religione ellenistica c'era poco c'era nulla è pur vero che San Paolo sovente dice io vi mando un predico un messaggio di libertà di libertà dalla legge ebraica perché la legge era stata un cappio al collo che non si è riuscito ad osservare quindi è bello essere liberi una legge di grazia una religione di grazia una religione di libertà una religione di fiducia di speranza tante belle cose cose positive che però se manca una base si rischia di a volte anche di deragliare a destra e sinistra deragliare a destra e sinistra e allora questa prima lettera ai Corinti è un'occasione per San Paolo per cercare di rispondere o di puntualizzare diversi aspetti pratici in cui lui si rende conto che questa giovane comunità di Corinto stava stava un po' uscendo dai binari e quindi dice mia responsabilità condurli condurli verso un binario un binario più più approfondito se noi leggiamo un po' la lettera la prima lettera di Corinto adesso non la leggo però vediamo un po' i temi principali che vengono trattati forse diversi li conoscete già l'avete già visti per esempio dopo i saluti che non abbiamo ascoltato prima viene proprio presentato il primo problema ho saputo dalla gente di Chloe ho saputo da qualcuno che riferiva mi riferisco al fatto che alcuni di voi dice io sono di Paolo io invece sono di Apollo io invece di Cefa e io di Cristo vuol dire che c'erano delle si erano instaurate delle divisioni tra questi Corinti che si riferivano un po' magari uno a un apostolo l'altro a un altro forse quelli che erano di Cefa erano magari persone legate più al mondo giudaico dove San Pietro era comunque in qualche modo più riconosciuto nell'ambiente giudeo cristiano quelli più che si riferiscono di Paolo vabbè erano stati più suoi figli spirituali questo Apollo di cui si parla non sappiamo bene chi fosse forse è un predicatore che poi si è avrà anche lui avuto occasione di dire di parlare a Corinto e alcune altre persone si sono aggiunte alla comunità diciamo aiutati da questo predicatore di nome Apollo che San Paolo dice che non ha fatto bene avrà fatto bene anche lui avrà fatto bene anche lui però in pratica restano quelli di Paolo quelli di Pietro quelli di Apollo e questo non va bene le divisioni all'interno della comunità non vanno non vanno assolutamente bene perché Cristo è uno e questo è un bel insegnamento che San Paolo dice ai Corinti ma che San Paolo trasmette trasmette a tutti noi ne abbiamo bisogno anche noi oggi ne abbiamo bisogno anche noi oggi di evitare chiese e chiesuole fazioni io sono del gruppo A io del gruppo B io del gruppo C io mi riconosco in quel maestro io mi riconosco in quell'altro succede non vi faccio esempi di nostri se no potremmo anche fare esempi nostri ognuno di noi potrebbe fare esempi suoi e quindi invece l'invito di San Paolo è di avere questa unità e lui parla nei primi quattro capitoli un po' di questo in questo ragionamento nel quinto capitolo invece viene a trattare un po' più problemi di comportamento nel comportamento perché c'erano tra i corinti delle persone che avevano delle licenze comportamentali molto 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 libere per dirla così è presente il caso di un cristiano che conviveva con la moglie di suo padre che facilmente la matrigna si immagina perché se no convive con sua madre ecco se invece convive con la moglie di suo padre immaginiamo la matrigna che padre lui era figlio del padre ma magari un'altra donna perché nella libertà ok e il suo padre poi il padre di questo tale era in qualche modo sposato secondo i costumi di allora con una donna e lui conviveva con questa donna e questo dice non sta bene ma non che non sta bene nella società perché nella società ma ricera pure di peggio ma non sta bene che questo sia tra i cristiani e che voi quasi diciamo lo accettate e siete contenti che questo faccia tutto quello che vuole perché se succede succede tra gli altri per carità succede nel mondo greco succedeva anche di peggio può darsi però non dovrebbe succedere così tra i cristiani questo dice San Paolo di fatti dice capitolo 5 e 6 in cui tratta questo argomento togliete il malvagio di mezzo a voi non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta e quindi come dire anche il male anche se potrebbe piccolo un caso isolato potrebbe rovinarci tutti e quindi invita proprio a risolvere questo problema a questo problema di dire non di condannarlo ma di estromettere dalla comunità non per condannarlo alla scomunica all'inferno no ma perché abbia motivo di correggersi non riconoscetelo come cristiano non riconoscetelo come fratello vostro appartenente alla vostra comunità sempre in quest'ottica di ragionamento di San Paolo viene trattato un altro argomento a volte succedeva tra i cristiani come succede anche adesso che c'è qualche litigio e qualche litigio dice voi cristiani a volte litigate e a chi vi rivolgete per risolvere i vostri litigi ai tribunali pagani e questo dice non va bene se bisticciate tra di voi non dovreste bisticciare perché la carità pim pim pam pum pum va beh può capitare però cercate di risolverla tra di voi cercate di risolvere tra di voi se dunque avete liti per cose di questo mondo voi prendete a giudici gente senza autorità nella chiesa ossia gente strane gente che non c'entra nulla che magari pagana invece cercate di aiutarvi tra di voi a un certo punto conclude dicendo sarebbe molto meglio subire un'ingiustizia che portare un proprio fratello in giudizio in un tribunale del mondo in un tribunale pagano e poi da altre disposizioni molto più anche molto pratiche per esempio sul 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 fatto del matrimonio dove lui dice nel capitolo 7 dice che secondo lui sarebbe meglio non sposarsi d'altronde quella è stata la sua scelta di non sposarsi ma non sposarsi in vista del regno dei cieli anche perché San Paolo ha in queste lettere l'abbiamo già parlato anche quando parla tra i tessalonicesi ha l'idea che la fine del mondo si avvicina e quindi dice se noi vogliamo vivere da cristiani vogliamo vivere quasi già come se fossimo nel regno dei cieli e nel regno dei cieli non ha più senso avere figli non ha più senso avere marito e moglie perché siamo come fratelli e sorelle e quindi lui preferisce per quanto riguarda se stesso non avere rapporti sentimentali con persone di questo mondo e quindi restare in castità per intenderci però dice non ve lo comando questo anzi è meglio sposarsi piuttosto che avere traffici in giro che sono peggio ancora quindi è meglio sposarsi e quindi se anzi è bello che uno sia legato alla propria moglie legato al proprio marito e che la moglie sia vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito e il marito viceversa sia legato alla moglie per tutto il tempo in cui vivono insieme certo e poi tratta un altro argomento di cui è molto che è molto interessante dove dove c'era una problematica che era di questo genere venivano offerte carni agli idoli presso i pagani quindi anche presso i greci c'erano molte potremmo dire macellerie sacre chiamiamole così vuol dire che le macellerie venivano costruite vicino al tempio gli animali uccisi prima venivano offerti al dio tal dei tali pagano offerto magari qualche pezzo qualche cosa aveva bruciato qualche parte dell'animale il resto veniva macellato nella macelleria e poi venduto alla gente però veniva interpretato comprare in questa macelleria sacra legata a un tempio legata a una divinità quasi partecipare del sacrificio quel dio io comprando la carne in quella macelleria partecipo del sacrificio quella divinità san paolo dice noi su questo di per sé saremmo liberi perché gli dèi non ci sono e quindi le carne immolate agli idoli sono carne immolate a nessuno e quindi per carità si potrebbero mangiare queste carni però però ci sono non tutti così con una fede così sicura una fede così forte ci sono anche tra di noi persone deboli che se vedono io che mangio la carne che è immolata la divinità che ho comprato nella macelleria sacra sembra quasi che io creda in questa divinità e che io partecipi di questa divinità mangiando questa carne immolata agli idoli e allora dice non mangiamola questa carne immolata agli idoli ma non perché gli idoli esistano ma per rispetto verso i fratelli più deboli nella fede verso i fratelli meno meno forti che quindi potrebbero essere deviati da comportamenti troppo così tranquilli di dire gli idoli non ci sono quindi la carne va tutta bene quindi sono vedete regole che San Paolo dice ma non tanto dettate da da principi da chissà che cosa ma dettate anche tanto dal buonsenso e anche tanto dalla situazione concreta concreta che trova che trova nella nella situazione di Corinto e poi porta sovente il suo esempio per esempio leggo un brano di questa parte della lettera ai Corinti dice io pur essendo libero da tutti mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero il maggior numero con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge benché io non sia sottoposto alla legge per guadagnare quelli che sono sotto la legge con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge pur non essendo senza la legge di Dio ma essendo sotto la legge di Cristo per guadagnare quelli che sono senza legge con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli mi sono fatto in ogni cosa tutti per salvarne ad ogni modo qualcuno e faccio tutto per il Vangelo al fine di esserne partecipe insieme agli altri c'è poi un'altra parte interessante legata proprio a Corinto che è questa nell'antica Grecia si sviluppavano due giochi particolari quelli più famosi sono Olimpia ma c'erano gli altri giochi che erano proprio vicino a Corinto che erano i giochi dell'ismo che si correvano lungo l'ismo che collegava la parte principale della Grecia per il Peloponneso proprio nei pressi di Corinto e quindi lui per esempio fa l'esempio famoso della prima lettera dei Corinti dove dice l'atleta quando si prepara per la corsa si prepara per vincere e corre per vincere la meta e noi cristiani anche noi ci prepariamo per vincere la nostra battaglia per vincere la nostra sfida nella vita cristiana non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti ma solo uno ottene il premio è vero così corretto in modo da riportarlo chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa l'atleta si modera proprio perché ha un obiettivo davanti a sé e quelli che lo fanno e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile ma noi per una incorruttibile come dire noi ci diamo delle regole ci diamo dei presupposti ci diamo delle osservazioni in vista di una corona incorruttibile l'atleta fa sforzi fa allenamenti fa digiuni fa cibi speciali fa anche oggi le varie discipline atletiche sono una serie di regole infinite di orari di orari di comportamenti di vitto di questo e quell'altro e poi c'è un bella parte in cui invece lui racconta racconta l'ultima cena la prima lettera ai corinti in cui racconta l'ultima cena per cui l'ultima cena Gesù che prende il pane e dite prendete e mangiate questo è il mio corpo prendete e bevete questo è il mio sangue e viene raccontato dai Vangeli non tutti quanti e viene raccontato questa prima lettera ai corinti dove lui dove lui racconta questo proprio perché dite voi cristiani che partecipate dell'unico corpo e dell'unico sangue del Signore trovate lì l'unità l'unità tra di voi trovate lì l'unità tra di voi c'è poi un'altra parte molto interessante dove paragona la chiesa al corpo di Cristo dove dove Cristo è il capo della chiesa e noi siamo le membra e le membra concorrono tutto al bene del corpo e quindi anche tutti noi dobbiamo concorrere al bene di tutti quanti non è che la mano dice io faccio per conto mio e invece la mano collabora con tutto il bene del corpo non è che se la mano ha male diciamo la mano ha male chi mi interessa io tutto bene no se ho male la mano tutto il corpo sta male per la mano e quindi e quindi è bello questo sentirsi partecipi gli uni degli altri c'è molto nella prima lettera ai corinti partendo da quelle divisioni di cui abbiamo accennato nel brano c'è sovente questo voler essere vicini partecipi sentirsi uniti e questo e quello e quell'altro nel capitolo quindicesimo della lettera ai corinti si parla della risurrezione di cristo dove ci sono delle belle una bellissima pagina se cristo è risorto se cristo non fosse risorto vana sarebbe la nostra fede e invece proprio perché cristo è risorto allora noi la nostra fede è fondata è una bellissima pagina sulla risurrezione di cristo e quindi sulla saldezza saldezza della nostra fede primo ho detto a gran 15 capitoli invece sono 16 sono 16 perché il sedicesimo capitolo è di conclusione di conclusione dove sarebbero tante altre cose che vorrebbe dire vorrebbe fare poi le saluti e via dicendo e ringrazio tutte quante le cose va bene parlato un po' della prima lettera ai corinti passiamo alla seconda la seconda perché San Paolo scrive la seconda? ma perché nel frattempo forse a poca distanza scrive la seconda dalla prima perché nel frattempo erano successe alcune cose qualcuno dice che forse aveva fatto una visita a lampo a corinto anche se non è raccontata dagli atti degli apostoli non è raccontata da altre parti però sembra quasi presunta in qualche passaggio della seconda lettera ai corinti abbia fatto una visita a lampo e lì si sia trovato in difficoltà e si è stato in qualche modo trattato non benissimo o lui o qualche suo stretto collaboratore tanto che lui se n'è andato via presto e poi ha scritto questa seconda lettera tra le lacrime ci sono pagine molto dure molto dure in questa seconda lettera ai corinti ha poi saputo altre cose ancora e quindi scrive questa seconda lettera cos'è che ha saputo ancora ha saputo che sono erano arrivati delle persone con delle che diciamo presentavano delle credenziali da parte di altri cristiani e volevano istruire i corinti più di San Paolo e meglio di San Paolo e diversamente da San Paolo e quindi anche mettendoli in contrasto con lui e quindi queste persone danno fastidio oppure rischiano di deragliare questa comunità che è già incerta ha già problemi ha già situazioni ha già tante debolezze se poi arrivano arrivano pure persone che la deragliano che fine facciamo? e allora San Paolo scrive questa seconda lettera ma qui nascono altri problemi che se noi leggiamo bene la seconda lettera questa seconda lettera assolutamente disomogenea disomogenea cosa vuol dire? che ci sono delle parti in cui ha un tono verso i corinti molto molto tranquilli molto di di vicinanza di affetto ci sono altre parti in cui invece pesta giù un po' duro ci sono delle altre in cui fa difesa a se stesso della sua della sua scelta delle sue cose che ha fatto che ha detto della sua predicazione c'è una parte in cui si parla di una colletta verso la comunità di Gerusalemme che con tutto il resto sembra centrare poco nulla e allora gli studiosi dicono ma cos'è sta lettera qui? e molti sostengono e però poi è sempre difficile dire chi ha ragione molti sostengono che questa seconda lettera ai corinti sia un collage di lettere più brevi un collage di lettere più brevi o anche che San Paolo ha scritto magari a poca distanza una dall'altra quindi anche con toni diversi anche secondo situazioni o notizie che lui riceveva diverse e che poi sono state in qualche modo giusto apposte lì da un redattore e sono venuti a formare quella che attualmente è la seconda lettera ai corinti poi certo c'è il bel cappello iniziale di saluto e il bel cappello finale di saluti anche quelli perché normalmente le lettere di San Paolo hanno sempre tutto un bel cappello iniziale e una bella conclusione finale e quella c'è però potrebbe essere presa da una di queste e poi hanno incorporato un argomento dell'altra e hanno fatto un collage noi questo non sarebbe una cosa assolutamente impossibile da fare perché non rispettiamo l'autore ma allora non c'era nessun problema magari a fare anche questo tipo di ragionamento di fare un collage quindi la seconda lettera ai corinti sembra molto un collage di lettere e allora lì si sbezzarisce più modo per dire quante potrebbero essere c'è chi ne riconosce quattro letterine all'interno per esempio una lettera apologetica in cui San Paolo quasi discute contro questi falsi profeti cui poi dico meglio una lettera polemica più dura ancora nei confronti di questi di questi di questi tali che cercano di evangelizzare in modo diverso diverso i corinti una lettera di riconciliazione avete capito i vostri sbagli sono contento che avete fatto che siete tornati che qui che là che su che giù e poi una lettera invece è una parte in cui si parla e propone questa colletta verso i cristiani di Gerusalemme ma intanto cosa poteva essere successo era successo che a Corinto erano arrivati in quel periodo dei nuovi apostoli degli evangelizzatori e chi erano questi evangelizzatori non lo sappiamo bene sembrerebbero un po' legati al mondo giudeo cristiano che quindi volevano imporre un po' di più le regole degli ebrei a questi corinti dove San Paolo invece ha sempre detto e ritenuto noi siamo liberi dalla legge ebraica noi siamo liberi la legge non ha prodotto non ha prodotto quel che doveva produrre quindi noi siamo liberi perché noi siamo abbiamo la nostra fede in Cristo e Cristo la religione che ci ha dato è una religione di libertà non una religione di schiavitù e questo è un grande insegnamento anche per sempre per noi quanto noi abbiamo fatto diventare una religione cristiana una religione di norme precetti devi far questo devi far quello devi far quell'altro e questo viene sovente visto male da tanti perché devo essere cristiano se poi non posso far questo non posso far quello non posso far quell'altro quanti dicono questo ma invece San Paolo dice tutto l'opposto la nostra religione è una religione di libertà la nostra religione è una religione di dono del Signore è una religione di speranza è una religione di gioia e questa tentazione di farla diventare una religione di regole di precetti di doveri di non far così non far cosà era una tentazione allora una tentazione storica sovente una tentazione anche dei nostri giorni tentazione dei nostri giorni e qui era successo che erano andate delle persone in qualche modo accreditate chiaro che chi va lì andasse lì con idee diverse San Paolo è troppo libertino San Paolo costruisce comunità che non rispettano più niente noi dobbiamo andare a portare quei cristiani a una roba più tradizionale una roba più legata al mondo ebraico si erano intromessi e cominciavano a dire delle cose diverse e San Paolo quindi ha contro questi cosiddetti falsi apostoli o falsi evangelizzatori tutta una lettera apologetica dove lui dove lui dice apologetica vuol dire lui sostiene la sua tesi sostiene le sue idee sostiene soprattutto il fatto che lui è andato in mezzo ai corinti senza farsi mantenere ma invece mantenendosi per conto suo lavorando perché questi evangelizzatori andavano in alcunità e si facevano mantenere in alcunità siccome evangelizzavano allora voi dovete mantenerli dandogli dandogli l'alloggio dandogli il vitto dandogli questo dandogli quell'altro invece San Paolo rivendica per sé questa lettera più volte che lui quando è stato a Corinto ha sempre provveduto a se stesso lavorando con le sue mani infatti si racconta che lavorava presso un artigiano da qualche parte si racconta che lavorava presso un artigiano forse un lavoratore di pelli qualcosa del genere adesso non vorrei dire una cosa per un'altra su questo ed è lunga questa parte qui proprio in cui si dice io sono stato un servo in mezzo a voi un diacono in mezzo a voi mi sono messo al vostro servizio mi sono messo alla vostra pari mi sono speso per voi diversità di queste persone invece che vengono a volervi comandare a voler essere i maestri a voler essere i dottori a voler essere sopra di voi c'è poi una parte invece di di riconciliazione soprattutto i primi capitoli perché uno dovrebbe dire almeno prima c'è la polemica poi c'è la riconciliazione invece no prima la riconciliazione poi la polemica quindi non ci stiamo proprio lì la prima parte di riconciliazione è quando San Paolo riceve da Tito che Tito è uno dei suoi collaboratori è uno a cui scrive anche lettere pastorali gli porta buone notizie dalla comunità e in cui dice i corinti hanno capito che così il loro essersi allontanati in qualche modo seguendo questi evangelizzatori non era giusto si sono riconoscono la tua autorità di apostolo e via dicendo e allora San Paolo è contento e San Paolo inizia il suo scritto in questa parte che è i primi capitoli con un commosso inno di ringraziamento a Dio ringraziamento a Dio perché questi corinti fanno bene tutte le loro cose egli si sente davvero consolato e si sente pure in grado di consolare i corinti sono consolato sono contento sono contento per voi e via 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 e poi c'è la parte interessante della colletta che sono i capitoli 8 e 9 che cos'era questa colletta San Paolo da una parte se la prende contro questi evangelizzatori che si avvicinavano al mondo giudaico non è che erano mandati qualcuno pensa fossero mandati dalla chiesa di Gerusalemme perché a Gerusalemme c'erano i giudei cristiani in particolare in quel periodo non arriviamo a dire questo anche perché se no sarebbe proprio una frattura grossa tra la chiesa primitiva anche se c'era un po' di serpeggiamento almeno in alcune fazioni ma non credo proprio nessuno pensa che San Pietro che un po' era a quel tempo al capo o San Giacomo al capo della chiesa cosiddetto giudeo cristiana mandasse a Corinto dei loro emissari muniti di lettere di presentazione per andare contro San Paolo no ma altri magari si erano presi la libertà di quindi da una parte San Paolo se la prende contro questi che vogliono portare indietro i corinti più legati al mondo ebraico e più legati all'osservanza della legge dall'altra parte ed è bello questo si rende anche conto che a Gerusalemme si faceva la fame perché Gerusalemme era comunque sotto l'attacco romano tanti problemi fino a fino poi alla distruzione del 70 qui siamo vent'anni prima ma i romani erano già i ferricorti e in mille modi contro questi giudei di Gerusalemme e la comunità giudeo cristiana non è che i romani andavano avanti per le spicce non facevano differenza granché tra gli uni e gli altri e quindi anche i cristiani erano in difficoltà rispetto a queste fiorenti città greche di commerci di ricchezze di questo e quell'altro dove anche i cristiani facilmente erano di molto stavano molto meglio la differenza tra le comunità c'era e allora San Paolo più volte negli Atti degli Apostoli qui in particolare e da qualche altra parte ha diciamo favorito una colletta per la chiesa madre di Gerusalemme come dire noi siamo cristiani anche loro sono cristiani sono nella povertà per vari motivi che storici contingenti quella è nostro dover aiutarli è nostro dover aiutarli quindi se da una parte lui rivendica e l'ha rivendicato anche in altre occasioni gli Atti degli Apostoli ci raccontano l'autonomia delle sue comunità dalla comunità giudeo-cristiane dall'altra parte però dice siamo tutti fratelli nel Signore quindi è giusto che ci aiutiamo e l'aiutarsi non è tanto campato sulle nuvole ma anche campato molto terra-terra viste le disuguaglianze che ci sono tra le varie comunità e quindi questa colletta è bella ed interessante questa raccolta la chiama come servizio di aconia come una grazia una caris a cui partecipare quasi come un culto un culto reso a Dio è importante essere generosi in questa raccolta verso la povera comunità di Gerusalemme lui aveva questa raccolta fatta non solo a Corinto ma anche in altre comunità della Galazia della Macedonia e della Grecia nel terzo viaggio un po' dove visita le comunità porta avanti questa idea della colletta qui viene sviluppata in particolar modo negli Atti degli Apostoli se ne accenna qua e là a questa colletta verso i cristiani i cristiani di Gerusalemme concluderei quasi qui dicendo dicendo che queste lettere ai Corinti sono proprio un bello spaccato della vita cristiana dei primi tempi delle prime comunità che sono comunità molto vivaci comunità molto ferventi anche ma anche che rischiano presto di deragliare d'altronde non hanno dei grandi fondamenti e quindi rischiano di deragliare e il compito che sente su di sé la responsabilità che sente su di San Paolo è quella di saper indirizzare anche se lui era stato a Corinti un anno e mezzo però non è che un anno e mezzo aveva formato e risolto tutti i problemi aveva scritto il trattato di teologia o il trattato di domatica o il trattato di morale o il trattato di liturgia o il trattato di tutto quello che ci doveva essere o il diritto canonico e quindi lui aveva si predicato detto annunciato però si manifestano problemi d'altronde lo sappiamo che i problemi poi nascono presto e nelle comunità cristiane un fiorire di eresie nel secondo e terzo secolo che impressiona anche noi oggi come mai ci sono state tutte queste eresie ma perché la comunità erano giovane ma d'altronde anche oggi ci sono divisioni difficoltà e questo non ci spaventi vedendo quelle difficoltà di allora non ci spaventi mai delle difficoltà che noi troviamo oggi a volte noi siamo scandalizzati dalle nostre difficoltà diciamo Cristo ha pregato per l'unità che tutti siano uno e poi facciamo la preghiera per i cristiani siamo divisi ortodossi protestanti anglicani e chi più ne metta se poi guardiamo all'interno della nostra chiesa cattolica siamo divisi tradizionalisti e progressisti oggi c'è un po' questa divisione che si cita macro macro citazione tradizionalisti e progressisti e poi su tanti argomenti anche più specifici di comportamenti di accettazione di apertura o non apertura ci sono tante divisioni adesso potremmo fare mille esempi ma non vorrei dilungarmi su questi non ci scandalizzino mai queste difficoltà e queste divisioni ci diano da una parte il senso che siamo deboli e fragili tutti e quindi è un bel bagno di umiltà renderci conto che ci sono divisioni ed è facile dire l'altro sbaglio invece guardo me che sbaglio io e magari non me ne accorgo ci diano la bella voglia di lavorare per l'unità sempre bella voglia di lavorare per l'unità sempre e la bella voglia anche di pregare per l'unità e San Paolo ha fatto questo San Paolo vedendo queste divisioni nei corinti e ce n'erano e le sottolinea non le nega sia nella prima lettera sia nella seconda non le nega anzi le evidenzia anche queste divisioni le accetta sono così lavora per l'unità lavora per l'unità e fa tutto quel che può anche con la preghiera proprio per questa unità e quindi è bello prendere l'esempio noi attualizzandolo oggi a questo messaggio delle due lettere ai corinti grazie a tutti voi arrivederci alla prossima volta arrivederci grazie a tutti